Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale e oggi vi insegnerò come prendere gratuitamente il ballo Boogie Down su Fortnite Battle Royale. Tutto quello che dovete fare è disporre di un telefono o di un PC, andare sul sito dell'Epic Games e accedere al vostro account. Una volta fatto l'accesso, cliccate su Account, selezionate Password Sicurezza. Ora andiamo giù finché non vediamo la scritta Autenticazione a due fattori e clicchiamo sul pulsante che si trova sotto Autenticazione e Mail. Dopo aver cliccato sul pulsante, vi si aprirà una box dove dovrete inserire un codice di sicurezza. Questo codice di sicurezza verrà inviato a voi dall'Epic Games all'email che avete registrato per iscrivervi al loro sito. Una volta inserito il codice, tornate su Fortnite, apritelo e vedrete che avrete sbloccato il ballo. Quindi, spero di esservi stato utile raga. Spollisciate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale Musica